Ponte Azzaglia Corsica 7 agosto 2020 Dopo circa 30-40 minuti da dove abbiamo parcheggiato Seguendo il sentiero con le pietre e a tratti lastricato Siamo arrivati a questo ponte Azzaglia Dove ci sono delle pozze, l'acqua è bella fresca Adesso vediamo se fare il bagno Non so se alzano delle pozze un po' più profonde E comunque c'è un panorama Sono circondati dalle montagne E dall'altro lato c'è un altro Continua la gola e continua il sentiero Per andare verso la foresta più alta Verso Elvia Però da qua non penso che si veda il sentiero E né tanto meno il fiume Però si vedono le montagne Per andare verso la foresta più alta Grazie a tutti. Grazie a tutti.